buonasera a tutti i molati di parkside sono benvenuti i commenti sotto il video mi raccomando non fate commenti banali tipo c'è la garanzia lo scontrino chiuso ne è fatto come l'hai usato bla 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 perché tanto sono commenti superflui semplicemente la mia sega gattuccio della parkside e mia ma la mia mollato dopo un annetto e mezzo questo non vuol dire che non sia un attrezzo valido affaticato tanto l'ho messa sotto d'orchio lo sfruttata ci ho fatto di tutto anche magari cose che avrebbe avrei dovuto fare con una sega gattuccio professionale ma è stata comprata per quello per essere sfruttata usata e non per un oggetto da collezione da tenere sui scaffali per farci i selfie quindi ragazzi evitate commenti banali allora cosa faccio adesso dato che come potete vedere questo meccanismo si è rotto adesso vado a vedere cosa perché si è rotto magari videvi può essere utile per farla lavorare meglio e quindi preservare questo ingranaggio perché il motore perfetto tutti gli altri tasti potenziometri cavo e hanno superato quest'anno e mezzo di vita con soddisfazione però purtroppo questo ingranaggio qui si è rotto ora vado ad aprirlo perché sono curioso di sapere cosa è che ha ceduto qui dentro perché si è rotto e come si è rotto ecco ancora aperto la sega gattuccio della parkside per smontarlo una brugoletta da 4 mm per il chiavino di bloccaggio della slitta cacciavite a croce cacciavite a taglio per far leva e un cutter per tagliare il sigillo di garanzia della della casa produttrice ora spostiamo tutta quanta la parte elettrica che non mi aveva dato alcun problema e andiamo ad analizzare un po la parte meccanica già dallo smontaggio si vede che questa parte qui cilindrica nella parte finale rovinata fatta qui un po appunta e qui sembra spaccata ora non so se il corpo macchina prevedeva che questo alberino fosse saldato alla macchina o alla bascola o alla camma ora vediamo cosa c'è all'interno se un ingranaggio una camma qualcosa andiamo a vedere se qui si è dissaldato oppure semplicemente si è rovinato perché la parte metallica che andava a battere l'ha rovinato andiamo a smontare la parte meccanica già si intravede qualcosa questa qui dovrebbe essere l'albero che poi gira sulla camma che è l'albero che si è spezzato ossia questo dovrebbe essere questo qui quindi penso che risaldandolo risolve il problema ora però andiamo ad aprire un po la parte meccanica queste viti sono strette con forza quindi ho dovuto mettere nella morsa dovuta non mettere nella morsa la parte meccanica per poter poi allentarle ora le svito con l'avvitatore grasso in abbondanza per fortuna vuol dire che il problema non era dovuto alla secchezza degli ingranaggi allora qui dietro ci dovrebbe essere la camma eccola lì l'ingranaggio sembra apposso un po di residuo ferroso ma è nella norma non vedo denti rotti non vedo nulla di rotto questa qui è la camma che fa andare avanti dietro il seghetto alternativo ed ecco qui la rottura la rottura perché già a prima vista ora lo pulisco meglio lo faccio vedere già a prima vista si vede che questa qui è una piattina vediamo se riesco a inquadrarla bene questa qui è una piattina lavorata per fargli questa asola con la fresa per metalli e poi qui nella parte finale è stata saldata ecco qua quindi si può riaggiustare ragazzi ora che faccio vado a pulire un po queste due facce vado a fargli un taglio qui all'interno per poter incastrare la parte cilindrica sulla parte piatta vedete che è una piattina la incastro e poi la saldo tutte e due le parti e ripulisco un po la saldatura beh quindi devo dire che la macchina si presenta davvero bene anche dopo tutte le sue fatiche qui abbiamo un feltrino che abbiamo semplicemente un feltrino che fa da parapolvere per tutto quello che potrebbe entrare all'interno della della macchina qui c'è semplicemente un cavallotto qui dovrebbe essere una boccoletta di ottone questa qui no non è di ottone ma è vediamo un po in plastica una boccoletta in materiale plastico nel quale scorre l'alberino però per il resto tutto bene ha resistito tutto benissimo benissimo ragazzi abbiamo svelato l'arcano e per fortuna quello che si è rotto è riparabile quindi adesso mi vado a smontare questa parte qui della della camma della biella e mi vado a saldare il nuovo il nuovo pezzo in modo da poter poi rimontare il tutto come vedete è stato tutto molto semplice qualora dovesse smontarlo anche voi l'unico l'unica accortezza da avere è che dovete smontare il manico toglierlo perché sul collarino dove ruota il manico qui ci sono due vitine le viti nere sono tutte quanti uguali l'unica differenza per questa qui l'unica lunga che è quella che era che era che era nella parte eccola qui che è questa qui quella lì lunga per il resto sono tutte corte anche il guscio esterno sono tutte corte tutte quanti uguali quindi davvero semplicissimo da smontare ora vado a saldare a riparare e rimonto tutto un saluto a tutti grazie a tutti